La Carioca S.P.A. nasce nel 2014 e raccoglie l'eredità di una delle storiche aziende piemontesi del mondo della scrittura, la Universal S.P.A. Oggi ha l'obiettivo di rilanciare i grandi marchi sviluppati negli anni 60 e 70 dalla Universal e in particolare Carioca e Corvina. Nel rilanciare l'azienda è stato creato un nuovo team di management in grado di affrontare le nuove sfide che ci aspettano nei prossimi anni. Alla Carioca produciamo e commercializziamo strumenti per colorare, disegnare e costruire, ma ci piace soprattutto vedere i nostri prodotti come strumenti per potenziare la creatività dei bambini. I nostri inchiostri sono dermatologicamente testati, gluten free, brillanti e super lavabili e hanno una gamma che è un'unica sul mercato in questo momento. Carioca offre ai genitori una scelta sicura per i propri bambini, sia dal punto di vista tecnico e fisico e sia dal punto di vista dello sviluppo cognitivo. Grazie a tutti!